allora 2-1 primo tempo 2-1 la Juventus allo stadium sta vincendo per 2-1 contro il Lecce finalmente signori finalmente e la bella novità si sblocca Dusan Blauvic finalmente e su azione non su calcio di rigore ma su azione poi signori cosa dire grande Miretti bella partita ci sta provando il ragazzo fagioli gran belle palle filtranti belle palle c'è stata la palla dal gol annullato in dubbio è stata una pennellata è stato bellissimo quel passaggio di fuori aria di fagioli è solo una svista pom gliel'ha data che signori non si poteva sbagliare sta palla e non l'ha sbagliata solo che boh il VAR boh gol non regolare quello del Lecce di altro ne parleremo a fine del secondo tempo signori io sono felicissimo che la Juventus al momento sta vincendo posso dire fino al momento fino al momento che Allegri ha messo una buona squadra in campo non ti confondere non ti confondere continua così e continuiamo perché voglio il 3 a 1 il 4 a 1 e chiudere sta partita e uscire con una bella goleata comunque per il momento è tutto signori aspettiamo il secondo tempo che dire una bella Juventus 2 a 1 lo meritiamo anche se il Lecce ogni tanto pizzica tipo come il Bologna ma però lo riusciamo a tenere ci vediamo a fine del secondo tempo signori e fino alla fine forza Juve